Ora parliamo della gestione dei rifiuti nei condomini perché c'è un'interrogazione presentata da Lucia Lanfredi, consigliera del Movimento a 5 Stelle, che è qui in studio con noi. Buonasera e benvenuta. Buonasera, grazie dell'ospitalità. Come sempre saluto tutti i cittadini che mi ascolteranno. Certo, grazie di essere venuta. Volevo sapere quindi da lei qual è il contenuto di questa interrogazione. Allora, noi abbiamo pensato di presentare questa interrogazione perché le problematiche relative alla raccolta dei rifiuti sono diventate sempre più complesse. Nel senso che la Tari applicata dal Comune non è aumentata, anzi forse poteva anche essere abbassata, nessuno pensa mai di abbassare qualche balzello. Mentre in passato il servizio di raccolta dei rifiuti all'interno dei condomini era gratuito, ora invece è a pagamento. Ma questo non è da imputare al Comune, ma è un servizio in più che fa linea gestioni concordando una tariffa, dovrebbe concordare una tariffa con gli amministratori. Allora, qui nascono i problemi perché innanzitutto c'è stato un accordo sottoscritto tra il Presidente Dianacci, un'associazione di amministratori di condominio, nel 2015 scaduto però il 31-12-2015. Attualmente quindi non esiste nessun accordo tra linea gestioni e una qualsiasi associazione di amministratori, sempre che tutti gli amministratori si ritrovino in anacci, per cui bisogna vedere effettivamente la problematica di con chi accordarsi è più complessa di quanto si pensi. Quindi non esiste nessun accordo, talfario, tra gli amministratori e linea gestioni, la quale tra l'altro sta presentando ai condomini delle fatture unilateralmente aumentate anche del 300%, senza nessuna spiegazione, e gli amministratori si trovano spesso a chiedere di stornare queste fatture perché non supportate da nessun accordo. E poi c'è un altro problema. Gli amministratori dovrebbero essere, peraltro, autorizzati dai condomini a concordare una tariffa. Quindi la problematica a monte è democraticamente un po' più complessa di quanto l'amministrazione non voglia far pensare. In più, nelle fatturazioni bisogna ricordare che sono state inserite anche le unità abitative inoccupate, quindi sono state fatte pagare ai condomini dei servizi non resi. Abbiamo domandato allora come reagirebbe l'amministrazione se i cittadini per protesta, visto che esiste un monopolio del ritiro dei rifiuti all'interno dei cortili, se dovessero decidere di mettere ciascuno la propria differenziata in strada, come reagirebbero considerando il decoro della città che verrebbe sicuramente meno. In più, abbiamo chiesto qual è per i cittadini il beneficio di aver fatto la differenziata fino adesso, cioè la tariffa non è aumentata, forse poteva a questo punto essere diminuita. In più, vengono aumentati questi balzelli per chi abita in condominio, ingiustificati e gestiti unilateralmente da linea gestioni, la quale decide autonomamente delle tariffe. A questo punto vorremmo sapere se non sarebbe possibile fare un bando eventualmente europeo per individuare una società deputata del servizio di raccolta che possa fornire questo servizio a un prezzo concordato, a un prezzo prestabilito che sia ragionevole e che non vada a creare ulteriori balzelli e penalizzazione per un lavoro importante che è quello della raccolta differenziata a cui i cittadini si devono impegnare a differenza del passato e che quindi giustamente devono essere premiati per il loro impegno. Pertanto noi pensiamo che tutto quello che riguarda le spese della differenziata da parte dei cittadini devono essere più che altro diminuiti e non aumentati su chi specula su questo servizio. Benissimo, allora noi adesso resteremo in attesa insieme a lei degli sviluppi di questa situazione. Grazie Lucia Lanfredi. Grazie.